Un festival della bonifica in un luogo che potrebbe essere definito la capitale della bonifica stessa, Sandona di Piave, che come buona parte del Veneto orientale è il simbolo di una trasformazione epocale di territori strappati a paludi e malaria. Un secolo quasi di sfide continue che i cambiamenti climatici stanno rinnovando nella forma e nella sostanza. Noi ci stiamo avvicinando al centenario di un grande appuntamento, che è quello che si è celebrato proprio in questa terra nel 1922, un congresso che nasce come una semplice riunione di tecnici, si è trasformato in un congresso nazionale dove le più importanti menti, sia della politica di allora ma anche del mondo accademico, si sono confrontati per ridisegnare un modello di sviluppo di un territorio e da lì è nata la parola chiave che oggi ancora ci accompagna, che è la bonifica integrale. Terre evolute è il gioco di parole fra l'evoluzione dei territori e quanto siano state evolute queste terre. L'opera dell'uomo attraverso la bonifica ha modificato spazi per l'agricoltura e per l'urbanizzazione dove prima era impensabile, creando allora come oggi importanti opportunità occupazionali. La bonifica è sicuramente un settore in sviluppo dal punto di vista anche occupazionale. Noi occupiamo 1300 persone in pianta stabile e poi abbiamo degli eventi stagionali nei momenti di punta quindi raggiungiamo anche i 1500-1600 persone, quindi è una cosa importantissima. importantissima anche perché da questo punto di vista noi stiamo anche progettando il nostro futuro e quando si progettano e quando si ottengono finanziamenti che vanno ad implementare gli servizi e vanno ad implementare quindi il lavoro che stiamo facendo servono risorse anche culturali e anche umane. Simposi e dibattiti verranno alternati a presentazioni di libri e spettacoli con artisti di spicco quali Giobbe Covatta, Teresa Manino, Andrea Pennacchi e Natalino Balasso per citare alcuni. L'idea è che il festival sia il più possibile inclusivo, quindi vogliamo che la cittadinanza sia presente in tutti i vari ambiti che abbiamo organizzato per questo festival, quindi i tour, le mostre, gli spettacoli serali, i simposi scientifici che sono adesso in questo momento in corso e gli incontri con gli autori dei vari volumi che presenteremo in questo festival e comunque in tutte le attività che sono moltissime e ormai faccio davvero fatica a ricordarle che ci accompagneranno in questi quattro giorni dal 16 al 19 maggio.